Questa intervista mi dà l'occasione per parlare ancora una volta del lavoro che Enrico Maltini ed io abbiamo fatto, che si è concretizzato soprattutto nel libro Pinelli, la finestra è ancora aperta, cui mi riferirò molto nel corso dell'intervista stessa e molti dei cui brani riporterò. Questo perché, come dirò poi successivamente, siamo a 50 anni dai fatti ed è opportuno che la memoria continui. Fra qualche mese saranno 50 anni, 50 anni dalla strage di Piazza Fontana, ma soprattutto per quello che interessa in questo momento e che mi riguarda più direttamente, 50 anni dall'omicidio di Pino Pinelli. Questa occasione dei 50 anni sta risvegliando curiosità, interessi vari di parecchia gente. E di qualche giorno fa l'uscita di un libro di un certo Broggi, ex giornalista di lotta continua, che dà una visione più intimistica dell'Afficenta riportando molte dichiarazioni e testimonianze delle due sorelle Silvia e Claudia Pinelli. L'unica cosa che ho da dire su questo libro è che mi dispiace che si sia assunto il merito, che ha ribadito anche in un'intervista a Radio Popolare, di essere lui lo scopritore della presenza degli uffici a fare riservati a quella notte tragica a Milano. Se ci fosse qua Enrico Maltini sarebbe anche lui molto, molto scandalizzato da questa affermazione, perché noi questa cosa l'abbiamo scritta ben 5 anni fa, nel primo libro e a finestra c'era morti. Ma questa è una piccola polemica forse inutile. Sempre con il discorso dei 50 anni è importante invece un libro, anche questo uscito da pochi giorni, di Paolo Morando, un giornalista di Trento che racconta il processo dei fatti del 25 aprile che è la giusta anticipazione di quello che è successo poi a dicembre. Il libro si chiama Prima di Piazza Fontana, è in elaborazione un altro libro di De Aglio su Piazza Fontana, per cui diciamo che il 50esimo fa tornare a galla a diversi strati di opinione pubblica il problema di cosa è successo veramente quella notte. Come detto prima, noi già nel primo libro Enrico e io avevamo individuato la presenza dell'ufficio affari riservati nella gestione totale delle indagini susseguenti alla strage di Piazza Fontana e di conseguenza la gestione totale di quanto è successo anche quella tragica notte. Ufficio affari riservati. Tutto questo è venuto a galla grazie alla rivisitazione di tutti gli atti processuali, soprattutto relativi al secondo, chiamiamolo secondo processo su Piazza Fontana che è quello che era stato gestito dal giudice Salvini e che poi è arrivato a quella conclusione assurda di assoluzione di tutti con condanna delle parti civili al pagamento delle spese processuali. Però, nonostante questo, in quella sentenza della Cassazione viene fatta una dichiarazione molto importante dicendo che sicuramente responsabili erano Freda e Ventura che però essendo stati precedentemente assolti non potevano essere più condannati. Quindi anche una sentenza che ha lasciato molto discutere sugli esiti, appunto la soluzione di Zorzi e di Maggi, anche questa sentenza però non ha potuto fare a meno di ribadire quello che già da subito si era detto, che la strage era stata fatta dai fascisti. Dico fatta dai fascisti perché diverso è il discorso di chi l'aveva ideata ma qui entriamo in un campo che al momento non mi compete. Io vorrei focalizzare quello che è successo la notte tra il 15 e il 16 dicembre perché l'oggetto della ricerca con Enrico Maltini che ha portato al primo libro e al secondo Pinnelli della finestra ancora aperta era proprio capire cosa fosse successo effettivamente quella notte. Ci è sempre stato raccontato ed è sempre emerso dall'unico processo perché c'è stato effettivamente bisogna dare un processo che riguardava la morte di Pino Pinnelli ed è stato il famoso processo di difamazione dove imputato era Pio Baldelli parte offesa Luigi Calabresi processo che come tutti sanno poi è stato di fatto messo nel dimenticatoio perché era arrivato a un punto tale di inaccettabilità da parte del potere e si è stata inventata l'escamotaggio della ricusazione del presidente del collegio giudicante dopodiché la cosa è finita lì. La ricusazione causata dal fatto che il tribunale aveva deciso di riesumare il corpo di Pino Pinnelli il che avrebbe messo in sicuro dubbio, anzi avrebbe di fatto smentito clamorosamente la tese ufficiale del suicidio. Però quel processo poi è stato appunto, ripeto, bloccato e abbiamo dovuto aspettare anni, anni e anni per tornare a parlare dell'aspetto, sotto l'aspetto giudiziario ma neanche tanto giudiziario più che altro diciamo di indagine perché l'attività che Enrico e io abbiamo messo in atto è stata chiaramente un'attività di indagine per cercare di mettere insieme un quadro che vorremmo che diventasse poi oggetto di anche un'indagine giudiziaria. Ce lo auguriamo ma non siamo più ottimisti. All'inizio del lavoro pensavamo che avrebbe potuto smuovere qualche elemento pensante all'interno della magistratura che potesse farsi carico di riaprire un discorso su cosa è successo veramente ma purtroppo su questa vicenda c'è un'ombra di potere notevole che è rappresentata dalla figura di un magistrato attualmente morto purtroppo e quindi mi dispiace parlare non dico male ma però criticarlo perché non può controbattermi chi è il giudice D'Ambrosio. E poi dirò alcune cose però anche a sua difesa ma veniamo a quella notte 15-16 dicembre. Ci è sempre stato detto e in quel processo di che ho accennato prima quello di Calabresi Baldelli era stato ribadito che nella stanza dove veniva interrogato Pino c'erano Calabresi, un allora tenente poi capitano dei calabinieri Lograno e agenti sotto ufficiali di polizia Panessa, Caracuta, Mucilli e mi pare basta. E noi eravamo fermi a questo, eravamo fermi a queste presenze e in base a questo si cercava di capire cosa potesse essere successo. Ma dalle carte rinvenute nell'archivio dell'ufficio affari riservati della via Appia, che poi sono entrate nel fascicolo del processo di Piazza Fontana chiamiamolo BIS e di cui siamo venuti a conoscenza Enrico ed io grazie alla Casa della Memoria di Brescia che ha digitalizzato tutti gli atti processuali tra cui anche quello di Piazza Fontana dove c'erano all'interno questi documenti, da queste carte è venuto a fuori una verità completamente diversa. È venuto a fuori una verità completamente diversa tant'è che, ed è l'oggetto del primo e del nostro secondo libro, che abbiamo chiaramente dimostrato che la gestione delle indagini per Piazza Fontana e quindi anche la gestione del cosiddetto caso Pinelli non era nelle mani della questura milanese e quindi di Allegra e Calabresi ma bensì dell'ufficio affari riservati. E questo anche per dichiarazioni loro. Sono loro stessi che, interrogati nel 1996 nell'ambito dell'indagine di Piazza Fontana, avevano detto che erano venuti a Milano in numero considerevole, che gestivano in proprio tutte le indagini, che la questura milanese si limitava a firmare i rapporti che loro comunque stilavano e predisponevano, che comunque facevano tutto loro, che però dovevano essere invisibili, nessuno doveva sapere che loro c'erano, tant'è che di fatti nessun documento né in testimonianza dell'epoca, né per quanto riguardava il processo di allora di Piazza Fontana, quello che poi è andato a finire a Catanzaro, né nel processo Pio Baldelli-Calabresi, né nell'indagine successiva di D'Ambrosio, quella che ha portato al proscioglimento degli indagati, allora erano già imputati, adesso il termine giuridico per la riforma dell'89, differenza tra indagato e imputato, ma non è qui il caso di stare a spiegarlo, questa differenza, in nessuno di questi momenti giudiziari era mai venuto fuori la presenza di queste persone estranee alla questura di Milano. Ripeto, sono loro stessi che interrogati dicono questo, e non solo dicono questo loro, ma lo dicono anche, interrogati alla luce di questi nuovi episodi, e anche funzionari della questura di Milano, uno per tutti Pagnozzi, che era un commissario, che è interrogato, dice La sera della morte di Pinelli io mi trovavo a Roma, dove avevo accompagnato Valpreda. Allegra e Russo Manno erano sempre insieme, soprattutto nel periodo immediatamente successivo ai fatti di Piazza Fontana, e ricordo perfettamente che Russo Manno, non avendo una propria stanza, utilizzava una scrivania allocata nell'ufficio di Allegra. Voglio precisare che mi risulta per certo che il Rovelli era già stato informatore della questura prima del 69, specifico che già nel 67 infatti il Calabresi frequentava il Rovelli nel senso che lo impiegava come fonte. Qui sono sempre dichiarazioni di Pagnozzi. Quindi dice chiaramente Pagnozzi che tutto era stato prefabbricato a Roma e che loro hanno soltanto limitato a portare avanti l'ipotesi nata a Roma. E il nostro commento è, quest'ultima frase, se l'italiano ha un senso, significa che il primo del suicidio di Pinelli, Allegra disse o fece capire a Pagnozzi che c'era una pista prefabbricata da Roma, secondo la quale Valpreda era il colpevole. Ma va avanti Pagnozzi. Il giorno successivo alla strage di Piazza Fontana, il dottor Russo Manno Silvano è giunto a Milano, dove prese in pratica la situazione in mano, unitamente al dottor Allegra. Il pubblico mistero gli chiede, lei all'epoca come configurava il ruolo dell'ufficio affari riservati? E Pagnozzi risponde, all'epoca l'ufficio affari riservati veniva identificato psicologicamente dagli uffici politici di tutta Italia come un ufficio cui riferire gerarchicamente. Alla successiva domanda, quali sono state le direttive del capo della polizia che all'epoca era Vicari immediatamente dopo la strage di Piazza Fontana? Pagnozzi ribadisce, le direttive che abbiamo ricevuto furono risvolgere attività investigativa in ogni settore al fine di individuare elementi di prova. Fummo peraltro esortati ad arrestare il maggior numero di persone che per la questura di Milano fu indicato in 150 persone, tanto che alla fine rastrellammo anche vagabondi presso la stazione centrale. Questo per dire il quadro che c'era in quel momento. Quindi abbiamo già una testimonianza interna della questura di Milano che dice che loro eseguivano solo ordini, erano gerarchicamente sottoposti all'ufficio affari riservati e a loro dovevano, che gestivano in proprio, avevano preso in mano tutta la questione, tutte le indagini. Ma quando parliamo di ufficio affari riservati a questo punto dobbiamo capire anche i nomi, persone in quel momento storico, 1969, il capo ufficiale apparente, il direttore dell'ufficio affari riservati era tale Elio Catenacci, che verrà a Milano anche lui, ed è l'unico di cui si parlava già allora ed era indicato come l'ispettore fantasma. Capo formale, perché di fatto non contava niente, perché il capo affettivo era Federico Umberto D'Amato. Braccio destro di Federico Umberto D'Amato è quel Russomanno di cui abbiamo già citato, di cui parla anche Pagnozzi. Silvano Russomanno, personaggio molto, molto delicato. E noi nel libro, in tutti e due, soprattutto e anche nel secondo, pubblichiamo una scheda che perviene dal Ministero degli Interni di questo Silvano Russomanno, dalla quale si deduce che Silvano Russomanno aveva un passato nazista che era entrato poi in polizia dopo essere stato scarcerato dal campo di confino degli alleati che l'avevano arrestato, entra in polizia, fa una brillantissima carriera e poi va all'ufficio affari riservati dove diventa il braccio destro di Federico Umberto D'Amato. La presenza di Russomanno all'interrogatorio di Pino Pinelli deriva da una deduzione puramente logica ma inoppugnabile. Noi abbiamo ipotizzato una scala gerarchica e nella pubblica amministrazione la gerarchia ha un certo valore. Abbiamo cercato di vedere nelle persone che ufficialmente e ufficiosamente perché abbiamo stabilito poi successivamente da queste carte erano presenti quella notte a Milano una certa gerarchia. E quindi abbiamo cominciato. Il capo dell'ufficio affari riservati, questo Elio Catenacci, che però come ho detto valeva il 2 di picchera, era soltanto lì. Quella che in termini giuridici in caso di società fraudolente si parla a testa di legno, era lì nominato per fare la parafulmine e quindi non contava niente. Poi avevamo Silvano Russomanno che era il braccio destro di D'Amato e quindi era il vero responsabile dell'ufficio affari riservati. Poi avevamo il questore di Milano, avevamo il questore di Milano Marcello Guida, il capo dell'ufficio politico Antonino Allegra e ultimo il commissario Calabresi. Quindi questa è la gerarchia. Ora cerchiamo di capire la situazione quella notte. Quella notte in questura c'erano soltanto due fermati, perché gli altri, i famosi 150 di cui parlava Pagnozzi prima, parte sono stati rilasciati, alcuni pochi sono stati trasferiti a San Vittore e non rimasto soltanto Pino Pinelli e Nello Valitutti. E c'era da interrogarli, era in corso l'introgratorio di Pino Pinelli, Valitutti poi il giorno dopo verrà portato a San Vittore e poi scarcerato immediatamente dal giudice Paolillo. Doveva essere svolto l'introgratorio di un fermato e attenzione, non un fermato per una lite di condominio o per un furtarello, era in stato di fermo, seppur illegale, con l'accusa di un reato gravissimo, il più grave reato previsto dal nostro codice, strage. E' quindi pensabile che l'interrogatorio venisse gestito dal quinto della catena gerarchica presente quella sera, quella notte in questura, direi proprio di noi. Riteniamo che l'interrogatorio fosse gestito da Russomanno. E abbiamo una conferma di questo. E questa volta non dagli atti della via Appia, ma paradossalmente proprio dal processo Pio Baldelli-Calabresi. Perché dico questo? Perché in quel processo, oltre ai vari Panessa, Caracuta, Bucigli e Calabresi, sono stati interrogati anche altri poliziotti. Poliziotti che erano presenti in questura per altre ragioni di servizio e soprattutto erano presenti al quarto piano all'ufficio politico. Uno di questi poliziotti in particolare viene interrogato. Si chiama Caffarelli, penso anche adesso, no adesso non più perché non c'è più servizio militare. Allora alcuni facevano servizio militare anche in polizia o nei carabinieri, quindi erano giovani di leva che facevano attività di polizia al quarto piano, di fatto facciano i piantoni o comunque un ruolo molto secondario. Questo Caffarelli, interrogato il 12 novembre del 1970 nell'ambito del processo Pio Baldelli-Calabresi, cosa dichiara? Lui aveva raccontato, qui noi portiamo uno straccio dell'interrogatorio, che era lì quella sera, che gli era capitato di entrare una volta nell'ufficio di Calabresi. E allora il giudice gli chiede chi vide dentro? E lui risponde, ricordo che c'era il brigadiere Panessa Mucilli e quindi questi due ce li dà presenti e altri tre carabinieri che non conosco. Quindi innanzitutto incomincia a non citare Calabresi e questo ha una sua importanza che poi vedremo. Parla di tre carabinieri che non conosco, come vi ho ricordato è uno di leva per lui, o sia poliziotti o sia carabinieri. Erano in Borghese evidentemente, non erano poliziotti del suo staff perché li conosceva tutti quelli che lavoravano lì sul piano e quindi ipotizza che siano carabinieri. Però dice che non conosco. E il giudice gli chiede eravamo vicini alle mezzanotte o no? No, no, lui dice molto prima, potevano essere le nove e mezza dieci. E il giudice gli dice ma chi interrogava? Chi stava interrogando? E qui la risposta è incredibile. Questo non lo ricordo. Ora, abbiamo detto, questo è un ragazzo di leva che lavora lì, conosce tutti i suoi colleghi e sicuramente conosce anche il suo capo diretto perché il suo capo diretto è Calabresi essendo vicecommissario all'ufficio politico. L'interrogatorio avviene il 12 novembre 70, quindi a 11 mesi dai fatti. Ora, non è pensabile che se stessi interrogando Calabresi gli dica non lo ricordo chi interrogava. È più logico ipotizzare e anche sostenere che non ricordo quale dei tre carabinieri che non conosco stessi interrogando. Quindi anche lui ammettendo fin da subito la presenza di estranei, cosa che evidentemente però non è stata sufficientemente valutata né allora né successivamente da D'Ambrosio. Ma quella sera su quel corridoio c'erano altri due poliziotti che dicono delle cose interessanti e importanti. Una che smentisce Calabresi e l'altra che lascia delle questioni molto delicate da affrontare. Questi due poliziotti sono uno di Stefano e l'altro Serinelli. Incominciamo con Serinelli. Serinelli sostiene di aver visto effettivamente Calabresi entrare nella stanza di D'Allegra. Incominciamo a dire le posizioni. Il quarto piano c'è un corridoio, c'è uno stanzone dove c'erano i fermati e in quel momento c'era solo ma di tutti. Di fronte allo stanzone dei fermati, un po' sulla sinistra c'è la stanza di Allegra. Sulla destra, non visibile dallo stanzone dei fermati, ci sono le altre stanze tra cui quella di Calabresi. Serinelli che era piantone di Palitutti, lui e di Stefano, i due piantoni che erano di turno quella sera fino a mezzanotte circa, che dovevano custodire Palitutti, sostiene di aver visto Calabresi entrare nella stanza di Allegra alle 11 e mezza e di non averlo più distruscine. Calabresi sostiene invece che pochi minuti prima della caduta lui aveva finito l'interrogatorio ed era andato da Allegra per fargli vedere il verbale dell'interrogatorio. Quindi mettendo il suo recarsi d'Allega intorno alla mezzanotte, cosa che è smentita poi da Talitutti, che ha sempre sostenuto di non averlo mai visto passare. Perché per andare dalla stanza dove era l'interrogatorio alla stanza di Allegra doveva necessariamente passare davanti alla finestra dello stanzone dei fermati dove c'era lì Palitutti che dice non l'ho visto passare. Quindi l'unica possibilità è che Calabresi sia entrato, come dice Serinelli, nella stanza di Allegra ma venendo dall'altro lato e quindi non visto da Palitutti ma non provenendo dalla stanza di Allegra, dalla sua stanza dove era in corso l'interrogatorio. Ma cosa dice questo Serinelli anche? Allora, gli chiedono, rientrato lei sostò nello stanzone accanto a Palitutti, non accanto ero di fronte e udito i rumori delle voci, no niente, una collutazione, no niente, c'era silenzio in quel momento nell'ufficio, sì, normale, insomma così. C'era gente che andava e veniva nel corridoio, no, non c'era nessuno, non c'era nessuno che andava e veniva. Quindi soltanto, ripeto, Calabresi verso le 11 e mezza che entrava nella stanza del signor dirigente ma non notai alcun altro. Non vide passare nessun altro oltre a Calabresi, no, non vidi nessun altro. Io vidi soltanto lui, io uscivo praticamente dal bagno, lo vidi proprio vicino mentre stava per entrare dal dirigente. Oltre a lui non ha visto nessuno, no, ma ci ha fatto caso, lei ha guardato se passava gente in corridoio, no, non ci ha fatto, io uscivo dal bagno i vidi Calabresi. Poi dice... Chi lo scrive, eh? No, questo qui... Ecco qua, sì. Che cosa vedi dopo che il dottor Calabresi entrò nella stanza del dottor all'era? Niente. Io restai nello stanzone. Stetti ancora con il vali tutti. Stetti lì e guardavo il vali tutti. Verso mezzanotte arrivò il cambio. Chiese al brigadiere di riserva se potevo andare via e lui mi disse se va bene, mi salutò. Quindi perso mezzanotte. Quindi non era ancora mezzanotte. Io presi l'ascensore e appena si aprì l'ascensore, arrivato a pian terreno, vidi un tenente dei carabinieri che gridava, si è buttato, si è buttato. Allora, quando lui scende prima di mezzanotte, Campino è già disteso per terra. E c'è già giù il tenente, lo famoso tenente Lograno, che grida si è buttato, si è buttato. Quindi quando ci hanno raccontato, e anche ufficialmente risulterebbe dopo mezzanotte, a parte che c'è tutta la questione della chiamata dell'ambulanza, ma lì sostenivano che non erano sincronizzati gli orologi. Infatti la chiamata dell'ambulanza è prima di mezzanotte. Ma tutto viene portato a dopo mezzanotte, ci dicono che si è buttato e che a un certo punto dopo che si sarebbe buttato, si sarebbero precipitati in corridoio, si sarebbero messi a gridare, si è buttato, si è buttato, Carabresi e Allegra escono disperati. Tutto questo è fasullo. Perché era già successo. Era già successo quando Sterinelli era ancora su. Perché se sceglie quell'ascensore e trova già giù il tenente che dice si è buttato, vuol dire che o si è buttato nell'attimo in cui lui sta accendendo o comunque prima. E quindi nessuno ha gridato nel corridoio. Lui non sente niente a gridare nel corridoio. Ma questa cosa qui è confermata anche dal suo collega. Perché anche Di Stefano dice il cambio è arrivato in anticipo e lei rimase lì fin quasi alla mezzanotte. Sì, mancava cinque qualche minuto prima e non ha visto né sentito altro. No, io sono sceso giù con l'ascensore e quando ho sentito il tenente dei Carabinieri che cercava aiuto, insomma diceva di qua di qua, sono andato lì, ma ho visto già tutta la gente intorno. Quindi questo conferma l'altro. I due piantoni che smontano prima di mezzanotte, tutti e due scendono, trovano già giù Pino, trovano già giù il tenente dei Carabinieri. E quindi questo ci dà tutta un'altra descrizione della dinamica, della tempistica dei fatti. Avevo anticipato alcune considerazioni sul giudice D'Ambrosio, la cui ombra oscura la ricerca della verità perché nessun altro magistrato a Milano evidentemente se la sente di andare contro quello che lui aveva stabilito, la famosa sentenza del malore attivo. D'Ambrosio non è responsabile soltanto di quella sentenza, ma secondo noi è responsabile anche del fatto che nel 1996, quando arrivano le carte della Via Appia, ma soprattutto quando vengono sentiti i funzionali dell'ufficio affari riservati che ammettono la loro presenza in questura in quei giorni, seppure a nessuno è stata chiesta formalmente il loro ruolo per la questione di Pinelli, perché non c'era un'indagine su Pinelli riaperta, l'indagine era su Piazza Fontana. Ma è ovvio che se io dico sono presente a Milano il 15, il 16, il 14 dicembre in questura, e siccome è in questura che succede la questione di Pinelli, ero comunque presente in questura. Ebbene D'Ambrosio, pur sapendo di queste dichiarazioni, perché D'Ambrosio in quel periodo era prima aggiunto, sostituto aggiunto quando era procuratore Borrelli, poi contemporaneamente al fatto che Borrelli poi va in pensione, diventa procuratore della Repubblica. Quindi diretto capo della Pradella e Meroni, che erano quelli che gestivano le indagini, che interrogavano i vari funzionari e quindi aveva visione, perché è obbligo anche lì, la gerarchia è importante, io sostituto procuratore, faccio vedere l'esito delle indagini in un'indagine particolarmente delicata come questa al mio capo. Quindi D'Ambrosio era venuto a sapere della presenza di persone che al suo tempo, ai tempi della sua indagine, non risultavano e quindi avrebbe dovuto quantomeno dire allora c'è qualcosa di nuovo, sentiamo, chiediamo qualcosa. Invece no, lui doveva difendere categoricamente la sua sentenza, che era una sentenza politica, infatti poi concluderò con il discorso politico, e quindi non ha voluto riaprire niente. Però, e qui a difesa di D'Ambrosio, devo dire che D'Ambrosio per un messaggio l'aveva lanciato, fin da allora. La famosa sentenza del 1975, quella che è stata definita del malore attivo, terminologia che è stata attribuita proprio da Soffi, l'aveva definita la sentenza del malore attivo e addirittura Scalzone l'aveva identificata come l'anticipazione del compromesso storico, quella sentenza come conclude? Perché è importante. Leggo proprio l'ultima parte della sentenza. L'interrogatorio è terminato e nulla è emerso contro Pinelli, ma lo stato di tensione per lui non si allenta. Il commissario Calabresi si è allontanato senza dire una parola. Cosa deciderà di lui il dottor Allegra? Finirà San Vittore con l'infamante marchio di complice di uno dei più efferrati delitti della storia d'Italia? O tornerà finalmente libero a casa? Pinelli accende la sigaretta che gli offre Mainardi. L'area della stanza è greve, insopportabile. Apre il balcone. Si avvicina alla ringhiera per respirare una boccata ad aria fresca. Una improvvisa vertigine. Un atto di difesa in direzione sbagliata. Il corpo ruota sulla ringhiera e precipita nel vuoto. Un atto di difesa in direzione sbagliata. Cosa ci vuol dire con questo D'Ambrosio? Ma semplice. Che se c'è un atto di difesa vuol dire che prima c'era un atto di offesa. Quindi D'Ambrosio dice ok, io devo finire questa sentenza in questo modo e poi vi spiegherò perché. Io, Gabriele Fuga, non D'Ambrosio. Vi spiegherò perché deve finire in quel modo. Però vi dico attenzione. Attenzione a questo messaggio. Perché io mi sottolineo questa circostanza. Che c'è stato un atto di difesa in direzione sbagliata. E quindi presuppone un atto di offesa. E l'atto di offesa, smentito da tutti, negato da tutti, modifica molto la dinamica del fatto. Concludiamo con un giudizio politico. Perché D'Ambrosio è arrivato a fare questa sentenza? Perché D'Ambrosio, non molti anni fa, poco prima di morire, ha le figlie di Pino in un incontro che c'era stato. D'Ambrosio ha detto ho fatto quello che potevo. Si è scusato dicendo scusate, ho fatto quello che potevo. Perché di più non poteva. D'Ambrosio, ricordiamoci, era organico al partito che ha gestito in modo subdolo tutta la questione di Piazza Fontana. Il partito comunista italiano. Che non aveva nessun interesse, anzi, il contrario che la verità venisse a galla. Teniamo presente un solo particolare. La sentenza di D'Ambrosio è del 1975. Siamo agli inizi degli anni, degli cosiddetti anni di piombo. Siamo agli inizi della grossa contestazione, anche armata, del movimento. Una verità, una dichiarazione ufficiale. Pinelli è stato ucciso, perché era quello che veniva chiesto ad Ambrosio con quell'indagine, avrebbe buttato benzina sul fuoco. Bisognava assolutamente trovare un compromesso. E il suo partito di riferimento, tant'è che poi è diventato anche senatore di esseri, ha detto, trova una scappatoia. La scappatoria l'ha trovata, il cosiddetto malore attivo. Però con questo ha ucciso un'altra volta Pino Pinelli. è un'altra volta Pino Pinelli. Grazie a tutti.